Allora, cari amiche, cari amici, siamo in una situazione di grande emergenza, l'auditorium è chiuso per i motivi che conoscete, è una situazione che anche per noi che organizziamo, che programmiamo le sale, è una situazione di grande tristezza, di grande sofferenza, anche perché fa parte, è una parte fondamentale della nostra vita, la programmazione in questa sala da tanti decenni ed è anche un'attività che ci ha dato con tempo moltissime e grandi soddisfazioni. Allora, però non vogliamo neanche rassegnarci, non vogliamo batterci, speriamo che questa emergenza possa durare il meno possibile, però il cinema ci manca, ci mancano i film, ci mancano la visione e se non possiamo farlo tutti insieme in sala, che naturalmente va su grande schermo, che naturalmente per noi è il modo migliore per vedere i film, abbiamo pensato di costruire, ricompose una lista che contiene dei titoli, dei film che abbiamo già programmato in auditorium e altri che avremmo voluto programmare, ma che non siamo riusciti per motivi di spazio. Sono film naturalmente che possiamo comprendere entro la categoria del cinema di qualità, che è quella che appunto continuiamo da quando siamo nati e che speriamo possano farvi passare un po' di quel tempo in cui siamo costretti tutti a rimanere chiusi in casa. L'augurio naturalmente che ci facciamo è quello di riaprire l'auditorium il più presto possibile e magari attraverso la visione o per alcuni appunto come dicevo, il fatto che i film ci li rivediamo perché magari ci sono particolarmente piaciuti, è un motivo per non perdere né l'allenamento, né l'attusiasmo, né la curiosità per il cinema che abbiamo sempre amato e che speriamo di poter in futuro riproporre di nuovo ai nostri soci e al nostro pubblico.